In questa puntata, Polizia Locale Fondazione di Modena perde l'esclusiva. Meier elegge la nuova disciplina su istituti di ricovero. Presentata la campagna Fratres Donare Sangue. Premio tesi di laurea 2022, 5 gli studenti premiati. Eccellenze senesi Alvinitali. Cambia la normativa sulla formazione della Polizia Locale in Toscana con l'approvazione a maggioranza della nuova legge che modifica la legge regionale 11-2020, norme in materia di sicurezza urbana integrate Polizia Locale. Con il testo approvato, la Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale con sede a Modena perde l'esclusiva consentendo di avvalersi in modo plurale delle realtà operanti in questo settore delle politiche pubbliche regionali. Nella prima commissione si sono tenute una serie di audizioni le quali hanno manifestato il disagio rispetto al venir meno della partecipazione della regione toscana a questa fondazione che ha lo scopo di curare la formazione della Polizia Municipale. Per questo motivo è stata presentata una nuova proposta di legge, oggi approvata dal Consiglio regionale, nel quale si esclude che ci possa essere il recesso da parte della regione toscana rispetto alla fondazione, ma si prevede che la formazione della Polizia Locale possa avvenire attraverso differenti canali, tra cui anche la Fondazione Interregionale di Modena. Pertanto si passa da un regime che è quello attuale di esclusività nella formazione ad opera di questa fondazione, a un regime diverso che prevede il ricorso a differenziati strumenti di formazione, tra cui anche quello della Scuola di Formazione di Modena. Ogni anno la Giunta prevede quali siano le priorità della formazione, stanzi alle relative risorse e i comuni, nella misura in cui si avvalgano della formazione ottenuta e richieste ottenute dalla regione toscana, comparteciperanno agli oneri in misura non superiore al 20%. Si tratta di istituzionalizzare quell'organismo, cioè la conferenza delle regioni, che già esistevano in pratica ormai da tempo. Le regioni con le varie riforme nel corso degli anni hanno assunto sempre più potere, sempre più autonomia, su sempre più temi e hanno iniziato a confrontarsi tra loro, hanno iniziato a interloquire tra loro giustamente, hanno iniziato a portare avanti anche battaglie comuni, perché spesso e volentieri una battaglia nasce in una regione, ma è sposabilissima da un'altra, anche a differenza a volte di connotazione politica dei governatori. E quindi è un ente che ormai da tempo lavora in autonomia e in sinergia. Ci è sembrato giusto istituzionalizzarlo, è una richiesta tra l'altro che arriva da tutte le regioni, quindi sia dalle regioni governate dal centro-destra sia da quelle del centro-sinistra, e crediamo che quest'atto serva a dare più dignità, più rappresentatività anche nei confronti del Governo nazionale e a questo organismo che di fatto esiste ed opera nella quotidianità ormai da tempo. Via Libera, da parte del Consiglio regionale, ha la nuova disciplina sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico. L'Aula ha approvato la proposta di legge presentata a ottobre 2022 dalla Giunta che adegua la legge toscana numero 40 del 2005 sul servizio sanitario regionale. Si tratta dell'ultimo tassello mancante per poter adeguare lo statuto del Meir che dopo il riconoscimento da parte del Ministero della Salute che c'è stato nell'agosto 2022 è diventato istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico. Con questa legge andiamo a modificare la legge 40 del 2005 introducendo nell'ordinamento toscano la figura degli IRCS, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, cioè la possibilità di svolgere attività di ricerca integrata in maniera forte con l'attività di cura. Lo facciamo dopo che il Meir ha avviato un percorso importante che ha avuto un riconoscimento agosto scorso e che gli permetterà quindi di trasformarsi in maniera definitiva in azienda ospedaliera universitaria Meir IRCS. Questo sarà il nome del Meir, l'abbiamo deliberato ora nella Giunta. Nella sostanza andiamo a ridisciplinare tutto il funzionamento di questa tipologia di istituti, come si fa a nominare il direttore generale, ci sono figure nuove, il direttore scientifico, il collegio di garanzia, insomma tutta una serie di figure che permetteranno di svolgere questa attività con più attività e con più forza scientifica, con un coinvolgimento del Ministero della Salute, perché ovviamente con questi passaggi chi ottiene la trasformazione in IRCS diventa parte integrante della rete della ricerca nazionale e internazionale. Questa legge praticamente introduce nel sistema toscano per quanto riguarda gli istituti di ricerca, per capirsi il Meir di ricovero e ricerca, un modello organizzativo assolutamente differente che segna al nostro giudizio finalmente una netta discontinuità con il passato, ovvero superiamo l'epoca, almeno in questi istituti, dell'uomo solo al comando, del Presidente della Regione che in maniera discrezionale, in maniera quasi arbitraria, sceglie i direttori generali delle aziende, i quali delle aziende sanitarie, i quali poi a cascata scelgono i propri collaboratori. Qui viene introdotto un principio per il quale invece il Presidente della Giunta regionale faccia determinate scelte, sentendo anche il Ministero della Salute, viene introdotto un collegio di indirizzo che noi riteniamo essere una cosa normale, opportuna, necessaria in aziende che governano e gestiscono miliardi di euro e si occupano di milioni di persone. Introduce la figura del direttore scientifico che noi riterremmo essere opportuna anche nelle aziende ospedaliere universitarie. Se forse alla ricerca della felicità, Fratres Toscana può aiutarti. Donare sangue, la ricetta della felicità. Non solo uno slogan, ma soprattutto una campagna arrivata in tutte le farmacie della Regione impegnata a consegnare le medicine in sacchetti di carta rigorosamente targati Fratres Toscana con l'obiettivo di raggiungere il maggior numero di potenziali donatori. La Toscana è una terra che non si è mai voltata all'altra parte, ossia i suoi cittadini. Credo però sia importante ancora di più in questo momento mandare un messaggio forte insieme a Fratres, dire che donare sangue vuol dire donare vita e chiedere a ognuno dei cittadini della Toscana che può farlo, di fare la propria parte. È importante ancora di più in questo tempo e credo che le istituzioni debbano avere anche il compito di sensibilizzare in questa direzione. Questa è l'idea che abbiamo voluto mettere in campo per il 2023 reduci da altre esperienze negli anni scorsi con altri tipi di promozioni di questo tipo. Abbiamo voluto tentare sulle farmacie, cioè in questi luoghi che comunque sono frequentati da numerosissime persone, molte delle quali magari anche sensibili a questo argomento che è la carenza appunto del sangue come abbiamo registrato soprattutto nell'anno 2022. E quindi nell'intento di cercare di prevenire quello che l'anno scorso è stato un brutto momento per la grossa carenza delle donazioni, ecco che abbiamo messo in campo da qualche giorno a questa parte questa nuova campagna. Sono cinque gli studenti premiati quest'anno dalla Fondazione Gianfranco Salvini per le tesi di laurea del 2022 con contenuti innovativi in materia di neuro-riabilitazione. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si è tenuta a Firenze nel Palazzo del Pegaso. Il premio di 2.000 euro destinato agli specialisti in medicina fisica e riabilitativa è andato a Stefania Spini dell'Università di Foggia. Noi sappiamo che i luoghi dove la cura funziona meglio e dove la ricerca si sviluppa e dove si riesce a trasferire sulla parte clinica l'attività e i risultati della ricerca. Allora, la Fondazione in questo caso fa questo, premia quei ragazzi che hanno fatto ricerca, quelle persone che hanno fatto ricerca e che sono riusciti a trasferire parte di questa ricerca sull'attività, in questo caso di riabilitazione. Quindi una finalità assolutamente in linea con quelle che sono della regione tutta e in genere del mantenimento e anzi dell'elevazione del sistema di qualità del sistema sanitario toscano. Sì, è un connubio direi che vorremmo festeggiare tutti i giorni. Significa che abbiamo centrato l'obiettivo quello di creare una cultura dopo di noi, dopo le persone che in questo momento si stanno impegnando in questo ambito davvero importante della neuro-reabilitazione. Significa investire sui giovani, significa fargli comprendere che le istituzioni sono vicine a loro. Io ho colto con favore la richiesta dell'ingegner Boncompagni di essere presente qua con la Fondazione perché farlo all'interno delle istituzioni significa che le istituzioni accompagnano i giovani in un percorso che non solo è quello di ricerca ma di investimento su se stessi e sul nostro futuro. La Fondazione Gianfranco Salvini dopo aver promosso una serie di progetti estremamente importanti in campo riabilitativo ha deciso due anni fa di dedicarsi proprio ad incentivare la ricerca per i giovani cercando anche di investire le risorse che la Fondazione ha a disposizione per favorire proprio la ricerca. Per favorire la ricerca e per favorire quelle che sono le buone idee che nell'ambito della neuro-reabilitazione possono nascere dagli studi, dalle tesi fatte dai ragazzi. La tesi che mi ha portato poi alla vittoria di questo premio riguarda l'utilizzo di una tecnologia a base di sensori inerziali applicata alla valutazione del paziente con ictus. Quello che ho fatto è stato appunto aggiungere questa tecnologia alla valutazione di questi pazienti e ci ha permesso di avere dei dati in più per valutare una di quelle attività più frequenti della vita quotidiana che è appunto il turning, la capacità di girare del paziente e questi sensori appunto ci hanno dato dei dati in più per valutare fattori di rischio, di caduta e altro e ci hanno permesso appunto di avere un follow-up del paziente migliore. Io sono logopedista, lavoro con la disfaggia infantile quindi con la difficoltà di deglutizione nell'età evolutiva quindi nei bambini, preferibilmente. Ho fatto la tesi sull'asma che è una malattia genetica rara e è l'atrofia muscolare spinale di cui si sa molto poco. Ho elaborato un protocollo di valutazione della deglutizione in modo da aiutare sia i bambini sia le famiglie in generale per una presa in carico e una migliore qualità di vita. Ho svolto un lavoro di tesi dal titolo Attività assistita con animali nella sindrome di Rett ipotesi di trattamento di supporto finalizzato al potenziamento delle abilità cognitive. Dunque l'oggetto della tesi è la sindrome di Rett che è un raro disordine del neurosviluppo che ha un'incidenza di 1 su 10.000 nate vive. Questo studio è stato svolto in collaborazione con l'ACS Lazio in quanto sono stati utilizzati i cani da salvataggio di questa associazione. L'obiettivo dello studio è stato quello di dimostrare come l'attività assistita con i cani da salvataggio svolta in acqua potesse essere un valido strumento di supporto a quelle che sono le terapie tradizionali. La mia tesi della laurea triennale ha riguardato l'utilizzo di realtà aumentata nei pazienti con stroke presso l'unità di stroke unit delle scotte di Siena. Con questa tesi ho utilizzato un visore Microsoft HoloLens che permetteva di aggiungere degli ologrammi alla realtà circostante. Con questo studio sono riuscita a dimostrare come una migliore partecipazione attiva del paziente all'interno del proprio percorso di recupero favorisse non solo un miglior recupero motorio ma anche una riduzione dei tempi di ricovero. La mia tesi aveva come obiettivo quella di individuare di verificare la fattibilità e la sicurezza dell'utilizzo di stimolazioni uditive ritmiche nel trattamento di persone con malattia di Parkinson in un contesto però di teleriabilitazione dato la recente pandemia da Covid-19 e dato il fatto che la letteratura ultimamente sta spingendo molto sull'utilizzo di tecniche di trattamento hands-off rispetto a quelle invece che richiedono il tocco terapeutico. Il mondo dell'enogastronomia si ritrova come ogni anno a Vinitaly e in occasione della 55esima edizione due eccellenze agroalimentari sienesi verranno presentate durante l'evento Siena, Cuneo e Brescia vino e salumi della tradizione che si svolgerà a Verona. È un modo con cui noi vogliamo raccontare quanta qualità c'è nelle nostre terre in particolare nelle terre di Siena produzione vitivinicola con il Super Tascani che è un gioiellino ormai riconosciuto in tutto il mondo e poi la cinta senese fino a pochi anni fa sembrava che quella produzione tendesse a svanire, in realtà grazie a politiche pubbliche grazie all'impegno, alla passione, alla determinazione di tanti agricoltori, di tanti allevatori oggi possiamo dire che è un'altra delle eccellenze che portiamo in giro per il mondo Vinitaly è un momento importante in cui far conoscere la qualità della nostra produzione la bellezza della nostra terra e con terre di Siena, con il Super Tascani con la cinta senese possiamo portare il nome della Toscana in alto nel mondo È sicuramente una partecipazione importante io la vorrei ridurre in tre termini che è quello dell'impresa, della tradizione e dell'innovazione quello che noi praticamente propagandiamo e che sono i tre termini che racchiudono quello che noi vogliamo praticamente significare con le nostre partecipazioni cioè noi non abbiamo da propagandare la nostra zona, la nostra regione e la nostra zona particolarmente però è un'occasione questa per propagandare due prodotti come il Super Tascan e il Cinta Senese che sono un prodotto legati sia alla tradizione e sia all'innovazione perché è stato un qualcosa che ha portato avanti un po' l'impresa il lavoro dei nostri imprenditori agricoli Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!